Ciao a tutti ragazzi, ben tornati in questo video vlog Oggi siamo con Dario Ascoltate la musica per data che stessi Bello, iscrivetevi al mio canale se no vi stupro Sì, girando con i video Raga, vi spiego una cosa Dario ora non farà più video con la Play per un po' di tempo Perché sua mamma gli ha sequestrato la Play Se sapete cosa ha combinato Comunque ragazzi, ho fatto questo video vlog Il primo video che faccio con la fotocamera Ah ma no Il primo video che faccio con la fotocamera Siamo ora in campagna Cuidiamo la live Uè Ai ai, porco di Isa Raga, mi ha fatto un momento Mi ha fatto un male Mi ha fatto un momento Sì, sì, sì Contaci, contaci Raga, qua è il cimitero Bello che era chiuso Siamo al cimitero Facci che ti affaccio a un morto del dogo Che se ti affaccio a un morto Guerra Sennò si aprisse Ecco Raga, siamo al cimitero Saluta Andone Sì Dammaggia, tipo saluta Andone Tutte le morte Saluta Andone No Raga, ora ci stiamo avviando Per andare da una parte Raga Verso là Appena mia mamma Appena mia mamma mi risieda la play Uscirà Due video al giorno Uscirà un montaggio Troppo bello Che mi sono Vi spoilerò solo una cosa Che mi sono fatto Full team di coltello E basta Full team di coltello Vai Stai a fila Quello Antonio Stai a fila Apri questo Antonio Questa cuffia Cazzo vuoi odio cane Che su casa sta a fila Antonio Che su casa sta a fila Antonio Allora vedete come Antonio Sera Maria Non so se voi lo vedete Ma è profondo Adazze Andiamoci nel quava Maria Che paura si macchina Raga Raga stiamo passando Ti senti? Ti senti? No qua Ti senti? No 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 Ci sono del prof Che stanno raccogliendo la riva Raga Mi sente le botte? Mi sente le botte? No Mi stanno sparando Mi faccio andare Poi anche io raccoglierò la riva Faremo un vlog Dario viene con me a raccogliere la riva Ma per il mio pomore Io zappo la vigna Io zappo la vigna No io zappo la vigna No io zappo la vigna No io zappo la vigna Vero Ragazzi Non lo so se avete fatto caso Nel mio primo montaggio su Rainbow Quando mi sono fatto uno vs 4 con Ipana All'ultima kill avete visto che non mi si è inclinata l'arma Infatti c'è l'arma ha fatto così Poi si è messa di nuovo dritta Avevo il joystick tutto è rotto Invece ora me ne sono comprato un altro 70 euro Quello originale Vabbè chi do pure l'originale? Non ho comprato Lo fa schifo perché io non faccio Pubblicisco Pubblicità Pubblicità a niente comunque A meno che non mi pagano poi Comunque Ora me ne sono comprato uno nuovo E quello della vecchia l'ho preso a zappato Con l'accetta raga Se voi avete il numero di Dario Vedete su Whatsapp La foto di Whatsapp E il suo joystick Tutto macinato Si è comprato il joystick della sliver No però è bello La sliver Mi piace perché c'è la luce che si vede nel touchpad Però il brutto è che I tasti sono opachi Invece la Colore opachi Invece Nella play call normale Sono più Raga Qualche giorno quando farò di nuovo il video con Cioè Vloggerò pure io qualche giorno Quando? Il giorno di mai Il giorno di mai Il mese di poi Vi faccerò Cioè vi farò vedere La foto Raga Raga Sto video sicuramente Lo dividerò in due parti Farò questo E poi Ne registrerò un'altra clip Per arrivaremo in piazza Perché ci vuole un po' di strada Cioè non è tanta Però C'è un po' di strada Raga E quindi Sto video Lo dividerò in due parti E farò un'altra clip Appena siamo a un altro posto Qui siamo Raga Campobello Sicilia Calazzi Saluto a Dario Ando Si è fermato Raga Raga Altri due minuti Possiamo parlare Dario Dario quando si ascolta la musica E non avete visto Dario quando fa musica Ma io non ne faccio musica Veramente Fai finta che lo fai Vediamo Raga Indire Si Bellissimo Raga Bellissimo Bello Sono sexy Comunque raga Vi consiglio di comprarvi questa Nikon Colpix Non è No Insomma Cioè è noto Non è Né tanto grossa Raga Né anche tanto piccola Mentre Nell'ungham Cioè è buona Raga Cioè io non te la consiglio Perché fa schifo Raga guardate Quelle di 500 euro a meglio Si 500 euro questo Raga Qua lui cammina con Orologio Orologio Si La cuffia del Huawei con le mie Che fanno schifo E le mie sono più belle E le due Samsung Che dove S4 Samsung 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 O Yoshi Pecceso 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 è un compagno di due Vabbè ragazzi Spero che questo video vlog vi è piaciuto E ripeto farò la prossima clip Appena arriveremo in piazza Se il video vi è piaciuto commentate Condividete e iscrivetevi al canale Se l'avete fatto qua da Duck, Dario e tutto Noi ci becchiamo al prossimo video Bella raga